Abbiamo detto che c'era una delle ultime classiche napoletane che non è vero che sarà scritta da Sergio Bruni a proposito di classiche napoletane vorrei dire qualcosa a mia moglie scusatemi ma non riesci ad arrivare una bifo qualcosa a bere qua su perché mi sta seccando la lingua, grazie va bene, come non detto una delle ultime classiche napoletane la scritta mi sembrava strana Pino Ranieri sì ma non è una di quelle che generalmente si conosce o che si suona molto spesso in giro in realtà è una canzone molto vecchia di Pino Ranieri grazie è una canzone molto vecchia che è scritta un bel po' di anni fa io voglio un vicino ma dove si dovete fate le vicine non c'è questa canzone io dico che è l'ultima delle classiche napoletane perché se cantata, se suonata in un certo modo scusatemi ma si è seccata io passo un po' che parla dopo se cantata e se suonata in un certo modo grazie 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 ragazzi grazie grazie Si te nomma vissi, porti una blucia Si te nomma camminata a casa nata Si te nomma vissi, 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 vissi Preguntavo,ν Щ? Si te nomma vissant Un perell alo textures Secondo me è l'ultima delle classiche napolesane.